Noi abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, cioè che finalmente in una sentenza è sancito nero su bianco l'inelegibilità ex legge per De Luca. Fino ad ora lui continuava a glissare su questa cosa, Renzi glissava su questa cosa, oggi c'è scritto nero su bianco e quindi io sfido chiunque a contestare che sarà così, che De Luca decadrà il secondo dopo la sua elezione. Abbiamo valutato l'ipotesi di un ricorso al Consiglio di Stato, i tempi erano strettissimi, c'era la marcia sul reddito di cittadinanza per lo mezzo dove io insieme a tutti i parlamentari salernitani eravamo impegnati a marciare per chiedere il reddito di cittadinanza per tutti i cittadini italiani e quindi abbiamo scelto poi dopo di non farlo, nel senso che non ci sono stati tempi tecnici per valutare adeguatamente, ma ci riteniamo assolutamente soddisfatti del risultato raggiunto. Vi ripeto perché De Luca è ineleggibile, lo dice una sentenza, non c'è più spazio per dubbio, votare De Luca è un voto inutile, vuol dire portare la campagna nel caos, questa terra ha bisogno di certezza e non di personaggi che pur di non fare un passo indietro sono disposti a portare nel caos la Regione.